Le battute si diceva che una volta, lo dico come battute, glielo ho detto anche in faccia, ma una volta c'erano due categorie che hanno la licenza di uccidere, che erano i magistrati e i medici, sono rimasti solo più magistrati. Sono rimasti solo più magistrati, i medici non hanno più quella licenza. Ora volevo sentire da Paolo Turati, cos'è lo sportello scelgo la salute? Ma è un'iniziativa che ho avuto modo di analizzare come economista e che mi sembra particolarmente interessante in quanto pone il cittadino un po' nel centro. Mi pare che oggi come oggi credo che sia importante in termini di efficienza e di qualità fare in modo che il cittadino possa esprimere un suo giudizio diretto su quello che è il servizio sanitario in questo caso e per farlo bisogna che questo sia conveniente per il cittadino, così come riformare un sistema fiscale non è possibile farlo con uno stato di pulizia, ma bisognerebbe farlo in modo tale che fossero i contribuenti a ritenere reciprocamente interesse l'uno dell'altro il poterlo fare. In questo caso mi pare che sia un'interfaccia significativo che è stato creato recentemente da parte dell'Ares in modo tale da poter cointeressare le associazioni di volontariato e da interfacciare appunto i servizi sanitari regionali con il cittadino direttamente. Tenete presente che il volontariato ritengo che possa essere, e il Presidente Brescia me ne darà ragione come economista, uno degli elementi futuribili che potranno riempire questo ritiro dello Stato sempre maggiore per riempire questo tipo di vuoto, perché sempre il Presidente Brescia mi potrà confermare che se per esempio nella agricoltura il bilancio dell'europeo era negli anni 70 all'80% e ora è sceso il 47% compresi PSR, non possiamo comprimere così quello della salute e della sanità. Quindi dobbiamo lavorare anche di fino e anche con tutta una serie di interventi. In modo chirurgico. Ci sono dei casi, scuole in giro per il mondo eccezionali, la ONCE spagnola per esempio è una realtà che fattura 5 miliardi di fatturato e mette in rete 3 milioni di invalidi dando lavoro e dando possibilità di copertura. Ecco quindi una delle attività che il legislatore dovrà fare e certamente volta in questo senso mi pare che questo sportello possa essere una prima fase di questo elemento, anche perché noi abbiamo sulla regione Piemonte due fattori che sono incisivi, specialmente il costo della spesa corrente ordinaria che è fatta dall'aumento del costo del personale che non è così efficiente rispetto alle altre regioni virtuose e l'aspetto dell'aumento della spesa farmaceutica. Qui ci sono anche dei comportamenti etici che la popolazione deve imparare a osservare e anche a difendersi, perché il caso dell'influenza aviaria dell'anno scorso è stato un caso scuola, è costato al mondo intero circa 100 miliardi di euro, sostanzialmente per niente. Quindi anche qui il cittadino deve poter essere messo al censo. Però forse bisognerebbe chiedere alle case farmaceutiche. Alle case farmaceutiche e ai media che ovviamente hanno dato una risonanza di un certo tipo. Prima siamo partiti con un discorso politico. Anche i media.